Eccoci alla seconda puntata sull'uso del software cartografico per smartphone Orux Maps. Nella prima puntata abbiamo visto come salvare una cartina sul nostro terminale. In questa ci occuperemo di prelevare una traccia GPS da internet, salvarla sullo smartphone e utilizzarla successivamente come guida durante la nostra escursione. Un buon modo per trovare una traccia GPS su internet è quello di andare sul sito di Gulliver, gulliver.it. Dove c'è un archivio notevole, un po' per quasi tutti i sentieri. Se non troviamo la nostra traccia sul sito di Gulliver possiamo andare su un motore di ricerca e scrivere direttamente GPX e poi il nome del percorso della meta del sentiero. Detto questo vediamo oggi come trovare una traccia sul sito di Gulliver. Dalla pagina di Gulliver nel campo cerca andiamo a scrivere un posto, ad esempio la rognosa, dovevamo andare, proviamo ad andare alla rognosa del sestre. Eccola qua, la rognosa del sestre. Si apre questa finestra, ecco, qui in alto, dopo una descrizione sull'itinerario, c'è la voce mappe e tracce. Si apre questa pagina con la cartina dove c'è la traccia bene in evidenza e sotto c'è l'elenco delle tracce GPS disponibili. Queste probabilmente sono inserite da vari utenti ma portano tutte alla rognosa del sestre, saranno più o meno sullo stesso percorso. Ne prendiamo una a caso, scarica, per effettuare questa operazione vi ricordo dovete essere registrati, quindi dovete effettuare il login e entrare quindi in MyGulliver. È una registrazione gratuita che vi porterà via pochi secondi. Una volta scaricata la traccia avrete un file di questo tipo nella vostra cartella download, un file .gpx da utilizzare sul computer o sul telefono. A noi interessa utilizzarlo sul telefono. Vediamo un attimo sul computer cosa si può fare. Aprendo ad esempio Google Earth e andando da Google Earth a fare file, apri e andando a selezionare la traccia, si aprirà la traccia su Google e quindi potremo vedere a livello tridimensionale il nostro percorso. Bene, torniamo a quello che ci interessa fare, ossia mettere questo file sul telefono. Come si fa a mettere questo file sul telefono? Ci sono diversi modi. O lo si carica su Dropbox, oppure si collega il telefono con un cavetto USB e si passa il file sul telefono, o lo si passa col Bluetooth. Insomma ci sono diversi modi. Non entro adesso in questo dettaglio perché varia sicuramente da telefono a telefono. Supponiamo noi di metterlo su Dropbox e di aprirlo poi dal cellulare. A questo punto passiamo dal computer allo smartphone dove abbiamo salvato il file .gpx precedentemente scaricato. Attraverso un qualsiasi file manager andremo ad aprirlo. Apriamo con un programma specifico che sarà a questo punto Org's Maps. Andiamo a scegliere. Diamo l'ok alla finestra che viene fuori. Ed ecco sulla cartina la nostra traccia GPS caricata. Molto utile per seguire il sentiero, nei casi ad esempio in cui non vi sia segnato una traccia sulla cartina che abbiamo salvato. Come al solito, come abbiamo visto nella prima puntata, si procederà con l'avviare il GPS e vedere il nostro puntino spostarsi sul sentiero. A presto! A presto! Grazie.